Il referendum può essere il terzo tempo delle elezioni, la questione nucleare è una delle questioni più importanti che il nostro paese abbia davanti e soprattutto è frutto di quell'atteggiamento berlusconiano tipico della furbizia del gioco delle tre carte, di aver tolto di mezzo nella sua testa il referendum con l'idea poi comunque di riconfermare la scelta. Non è così, ecco perché la nostra attenzione su questo tema rimane vigile.